Buongiorno, buongiorno amici, se ne va un pezzo di storia, se ne vanno sette anni di folta capigliatura e sono qui per dirvi che è arrivato il momento di darci un taglio. Allora Questo era solo l'inizio, ora c'è il secondo, sembra però che sto uccidendo tant'errore parti di me, sembra che mi sto tagliando un braccio quasi, e lo devo fare, il dovere mi chiama. E lo fai un freeze prima, e poi ritieni. Sprovo quasi dolore. Come Sansone, sta perdendo forza. Questo è tuo. Lo otterrò come ricordo personale, non lo dimenticherò mai. E poi il resto non vestirebbe. E questo è tuo. Ed ecco, abbiamo tagliato già una, due, tre, quattro, cinque. Ho perso le cinque code. E non finisce qui. Il bello deve ancora venire. Questi li lascio stare, che dici? Marco è l'incaricato per rendere questo momento tragico, un poco meno tragico. Grazie. 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 Questo è il risultato. Abbiamo finito.